la prima amichevole dell'esi Italia Chieti si conclude con una sconfitta nel punteggio ma per ampi tratti entrambe le formazioni compresa la sua coach Cohen hanno dimostrato una buona intensità anzi un'intensità che andrebbe oltre la semplice amichevole si riguarda il punteggio mi dispiace dirlo ma non è che possiamo guardare il punteggio finale quando si giocano quattro quarti e si a zera perché diventa un risultato falsato ma non perché facendo le somme uno lo perde ma perché è un dato insignificante sostanzialmente serve solo per non so chi ama guardare i totali ma in realtà in questi amichevoli sono altre cose che ci interessa magari quando ti giochi punto a punto il quarto per vedere se magari a livello di idea di mentalità ci sei e qualcosina abbiamo visto quindi andando fuori da quello che il discorso del punteggio che veramente non c'entra niente è chiaro che per noi era soprattutto la prima amichevole visto che la quella con Montegrenaro avevamo dovuto far saltare e quindi abbiamo impattato con una squadra che ha dimostrato di essere una squadra di di vertice come sapevamo perlomeno come sapevano quasi tutti una squadra che alla nostra altezza e quindi è stata una partita abbiamo visto dura perché fisicamente dall'altra parte c'è una squadra forse la più fisica o una delle più fisiche di tutto il girone per cui è importante fare questa amichevole anche perché apriamo gli occhi e capiamo che di fronte avremo un sacco di tantissime squadre avversarie di questo spessore per cui a dimostrare che sarà un girone difficilissimo la squadra non aveva ancora non ha ancora i 40 minuti nelle gambe però un episodio interessante sul finire del terzo quarto il parziale recitava 3 a 14 per Iesi e c'è stato un break di Chieti che ha dimostrato di avere anche la forza giusta mentale per recuperare in situazioni difficili sì quello è un segnale in un amichevole che lascia un po' il tempo che trova però è meglio che è successo questo voglio dire però sicuramente Iesi non si preoccuperà perché ha preso quel parziale perché siamo in un amichevole dove chiaramente si provano tante cose l'attenzione è portata più a far attenzione a non farsi male quindi sui minutaggi da distribuire sono tante le cose da prendere in considerazione questo magari può essere stato un segnale positivo per noi ma anche fosse successo al contrario non mi sarei preoccupato voglio dire essendo il primo banco di prova qual è quell'aspetto positivo dal quale ripartirà nel lavoro di domani anche in vista dell'amichevole di sabato ma diciamo che ci siamo resi conto con questa amichevole che abbiamo bisogno di tanta fisicità in questo girone quindi questa la dovremmo mettere ancora di più durante gli allenamenti perché poi eventualmente perché sennò rischiamo di trovarci in difficoltà quindi questo è un primo dato di fatto per tutti che a livello di fisicità potremo trovare delle difficoltà se non saremo pronti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti